Io quest'anno compio 43 anni, sono del 76 e sicuramente non vedrò la pensione o comunque non sicuramente come hanno potuto riceverla i miei suoceri o i miei nonni. Questo mi preoccupa e non poco perché soprattutto noi che abbiamo un lavoro non stabile perché lavoriamo per conto nostro come freelance, come imprenditori digitali è difficile che riusciamo ad accantonare troppi risparmi perché il nostro lavoro ha degli alti e bassi non indifferenti e comunque anche i contributi versati da chi lavora per conto proprio sono sempre minori rispetto a quelli che vengono trattenuti nella busta paga di un dipendente. Per questo motivo stiamo riflettendo da diverso tempo su come integrare i nostri risparmi con una pensione integrativa per il nostro futuro soprattutto con un obiettivo, non tanto quello di stare bene noi che mi ovviamente auspico, ma quello di non gravare sulle spalle di nostra figlia. Come si fa? Ecco che oggi cerchiamo di scoprirlo con questa guida e con questa serie di articoli e cerchiamo di scoprirlo con questo progetto di educazione finanziaria che abbiamo ideato insieme ad AXA che spero possa essere utile anche alle vostre famiglie più che altro come tema di riflessione perché noi tendiamo a non pensare mai al nostro futuro almeno non a un futuro così lontano ma in realtà il futuro è adesso. Vabbè questa è un po' una frase scontata ma in realtà il futuro è molto vicino. Cosa avete pensato di fare? State già pensando a una pensione integrativa per quando sarete più anziani e non potrete lavorare? Fatemi sapere qualche cosa nei commenti perché mi interessa la vostra opinione. Grazie mille come sempre!